Dopo un periodo di maretta tra l'amministrazione di Soriano Calabro e i padri domenicani che gestiscono parte del complesso monumentale di San Domenico e soprattutto grazie all'intercessione della regione Calabria, pace è stata fatta. Infatti è stato siglato il nuovo accordo che prevede la riapertura del Museo dei Marmi e la ricollocazione degli importanti argenti e paramenti sacri, nonché nella pinacoteca di alcuni importanti tele di proprietà dei padri domenicani all'interno del polo museale inaugurato l'8 dicembre del 2020 e diretto dall'archeologa Maria Angela Preta. La convenzione stipulata avrà la durata di 30 anni con possibilità di rinnovo e affida la gestione del parco archeologico del Museo dei Marmi e della collezione denominata Convento di San Domenico in Soriano con l'obbligo in capo al comune di metterli nella disponibilità del polo museale. La firma di questo comodato e di tutto l'iter che ha portato a questo certamente al di là delle giuste quasi ordinarie sofferenze umane, fatiche umane, ma quando si punta al bello, un bello che sia giusto, che sia vero, che sia trasparente, che sia legale, non può che essere sofferto certamente perché si attente, è un po' come l'artista, l'artista nel creare la sua opera d'arte non può essere approssimativo, è una ricerca continua, un discernimento continuo, è un cercare di capire quanto meglio si può fare. Questo è stato lo spirito con cui noi in dialogo con l'amministrazione comunale abbiamo inteso in questo, potremmo dire, tam-dam, in questo ping-pong di testi passati, ripassati, inviati, scambiati per migliorare sempre e ottenere che cosa? Ottenere il bene, la custodia del monumento, ma soprattutto una fruizione, una fruizione che non perda di vista che questo monumento continua a parlare non solo di cultura, non è un solo contenitore di umanità, ma soprattutto un contenitore di fede, di fede cristiana, ovviamente, per chi crede e vive questa realtà. È una fede che appunto i dominicani in 500 anni hanno coltivato, hanno offerto, hanno proposto attraverso questo quadro, questa latela appunto di San Domenico in Soriano, da qui, che rappresenta il nostro fondatore, che ci parla appunto poi di Gesù, ci parla di un Vangelo che oggi quanto mai è urgente, necessario riscoprire nella sua umanità, nel suo messaggio di pace, ma una pace che non è semplice irenismo. Ed è proprio perché non crediamo all'irenismo, che abbiamo voluto oggi convergere su un accordo tale che vuole guardare con grande forza umana, politica, culturale, al bene, a uno dei beni credo più belli che la Calabria possa oggi custodire e che certamente può essere volano, non solo di iniziative, ma soprattutto di incontri. Non per intercessione, direi che è stato un cammino fatto fra amici che si sono incontrati e come se si fossero ritrovati. Gli amici sono l'uomo e la fede e quindi un cammino importante è l'istituzione e la fede che si rincontrano tutti insieme, trovano quel corridoio morale, etico e di rispetto per la storia dell'umanità e soprattutto per l'arte e per la cultura e finalmente trovano anche il tempo di siglare insieme degli accordi che sono necessari per la migliore fruizione di un luogo che oltre a essere santo rappresenta la storia di un paese come Soriano. Questo è solo l'inizio. Spero che adesso con i Domenicani possiamo, Soriano possa diventare un punto di riferimento, come già ho detto, oltre che artistico e culturale, anche morale. Posso essere ad esempio per tutta la Calabria. Penso che gli amministratori che si prodigano o si prodicheranno per sviluppare, per dare l'infa a questo progetto e che è appena iniziato, io sono sicuro che ci saranno dei fiori, ci saranno delle sorprese che molti non si attendono. Dopo la firma della Convenzione, padre Francesco Lavecchia, rappresentante dell'Ordine, ha fatto da primo cicerone ai tanti ospiti presenti, raccontando i luoghi legati al culto di San Domenico e le tragiche vicende legate al terremoto del 1783 che hanno portato alla distruzione e poi alla ricostruzione del santuario. Quindi la visita al Museo dei Marmi, guidata da Mario Panarello, che è stato anche il curatore dell'allestimento, e infine alle sale espositive composte dal Museo della Ceramica Medioevale, dalla Pinearcoteca e dal Museo del Terremoto, che sono stati illustrati dalla direttrice del Polo Museale, decisamente soddisfatta per la conclusione di quest'annosa vicenda e soprattutto perché vedrà il Polo Museale arricchirsi di un significativo percorso espositivo che amplierà l'offerta rivolta al visitatore con opere e reperti eccezionali.